Ciao, sono Maui e in questo video ti dirò le 5 cose che nessuno che fa post-produzione di scarsa qualità ti dirà mai sui preset. La prima è che i preset sono davvero utili. Se si diffondesse la voce che tu, in un click, riuscissi a fare quello che loro fanno in un'ora, non pensi che ci rimarrebbero male? Terzo, i preset sono modificabili facilmente. Chi te li vuole nascondere ti dice che i preset sono restrittivi e adatti a un singolo tipo di fotografia, ma quando lo provi ti accorgi che in 10 secondi puoi modificarli proprio per la tua fotografia. I miei preset che sono nativi per ritrattistica su modelle, per esempio, sono utilizzati più volte per paesaggi oppure per ritrattistica su bambini e ancora su matrimoni con ottimi risultati. Applicali e mi dirai tu stesso i vantaggi che ti possono dare e quanto poco tempo ci metterai a modificarli esattamente per le tue foto. Quattro, i preset li usano anche i professionisti. Certo, anche se ti dicono che non li usano e ti dicono che è da principianti. È da principianti, perché anche il principiante può usarli. Con un click ottiene un risultato professionale e sarebbe stupido per loro non usarli, perché di fatto aumentano di molto la velocità di post-produzione massimizzando i guadagni. Mmm, birichini, lo so che li usate! Cinque, i preset costano tanto. Chi ti dice questo non ha davvero valutato i reali vantaggi che ti possono dare i preset. Velocità, professionalità, tranquillità. Nessun altro tipo di accessorio in fotografia, né una reflex, né una lente ti può dare tutti questi vantaggi. E se è vero che costano, è altrettanto vero che quando i preset pack vanno a prezzo pieno, ci sono molte persone che comunque li acquistano e ne apprezzano il vero valore. Ricapitoliamo quali sono i cinque vantaggi che ti vogliono tenere nascosti sui preset. Il primo è che ti sono utili. Il secondo, ti svelano i trucchi. Il terzo, puoi modificarli. Il quarto, li usano anche i professionisti. Il quinto è, costano molto ma valgono altrettanto. Ed ora una buona notizia per te. Se è vero che i preset costano, guarda sotto questo video. Troverai una sorpresina e un link con la possibilità di scaricarti un pacchetto di preset gratuiti per uso illimitato con licenza commerciale. Sarai tu stesso a giudicare la qualità dei miei preset e sarò felice se mi dirai che cosa ne pensi. Ciao dal Maui e buon divertimento con i tuoi nuovi preset.